Gianluca Vacchi Non si frequentano da qualche mese. Sul social condividono foto dei momenti passati insieme. Di recente sono stati anche paparazzati a Miami mentre si rilassavano sotto il caldo sole della Florida. Non solo, Gianluca ha anche portato la dolce metà a un evento organizzato nella sua villa bolognese. Vacchi ormai gira il mondo come Dejai e a quanto pare la nuova e giovanissima fidanzata è sempre al suo fianco. MR. Enjoy dopo l'addio alla compagna Giorgia Gabriele, è caduto tra le braccia della bellissima Ariana Gutierrez. Ma poi la storia è finita dopo poco e i giornali di cronaca rosa hanno anche parlato di un ritorno di fiamma con Lex che, invece, ha iniziato un'uova storia d'amore con il manager Andrea Grilli. Al fianco di Gianluca nei mesi scorsi è apparsa così la modella venezuelana Sharon Fonseca. La differenza di età con il ricco Vacchi non sembra essere un problema. I due insieme si divertono tantissimo, e sembrano essere diventati inseparabili. . 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 Grazie a tutti.